È un sentimento incredibile Non ho... Quindi è molto, molto difficile di esprimere questa emozione È la mia prima volta in classica di MotoGP con la bicicletta Ducati Io in questa categoria con questa bicicletta e ho lavorato per tutti questi 4 anni con questa incredibile gruppa e mi supporto al 100% dal principio Grazie Grazie